Se pensate che il problema principale dell'inverno sia il rischio di overdose da cioccolata calda con panna, preparatevi a ricredervi. Questa stagione infatti può influenzare i nostri pensieri e il nostro comportamento e il fatto che le persone possano sentirsi più cristi o stanche non è una credenza popolare ma una precisa risposta biologica. Ma quali sono le motivazioni? Lo chiediamo a Giuseppe Maina, docente di psichiatria all'Università di Torino ed esperto tra le altre cose di disturbi dell'umore. Buongiorno professore e benvenuto sul BoLive. Grazie mille, grazie per l'invito. Beh allora l'inverno porta con sé tante cose perché cala la temperatura, l'umidità varia ma soprattutto se parliamo di depressione o se parliamo anche solo di periodi in cui siamo più stanchi, un po' più malinconici, questo è dovuto al buio perché l'inverno porta con sé una riduzione delle ore di luce. E cosa significa questo dal punto di vista proprio biologico? Significa più buio meno serotonina, cioè noi produciamo meno serotonina quando ci sono meno ore di luce. La serotonina è fondamentale per mantenere il nostro buon umore, il nostro senso anche fisico di freschezza, di leggerezza, di forza. Inoltre il buio invece fa sì che noi aumentiamo la produzione di melatonina che invece è utile sia indurre il sonno però può farci sentire un po' più letargici, un po' più stanchi, un po' meno come dire in forma. Questo può avvenire non in tutti, in alcune persone fisiologicamente, una condizione anche comune non patologica oppure può avvenire in forme più gravi in quelli che sono appunto i disturbi depressivi stagionali, cioè le depressioni da autunno-inverno. In questi casi cosa succede all'interno del cervello? In questi casi succede che questo cervello fa fatica a produrre serotonina e quindi la serotonina influenza il tono dell'umore, la capacità di fare cose con desiderio. Meno serotonina vuol dire noi diciamo più anedonia, cioè più perdita del piacere di fare le cose e significa anche una riduzione per certi aspetti del nostro desiderio di socializzazione. Quindi succede meno serotonina, più melatonina, probabilmente anche meno vitamina D che a sua volta anche può favorire l'insorgenza di sintomi depressivi. Spostandoci dall'interno del cervello all'esterno lei accennava ai rapporti sociali, ma quali sono le conseguenze di questo stato nei rapporti con le altre persone, cioè quindi con gli amici, la coppia o magari sul lavoro? Le conseguenze più comuni di queste condizioni, di maggior tristezza, di maggior perdita del piacere di fare cose, significa anche la riduzione del piacere di stare con gli altri e quindi una tendenza a un maggior isolamento, a ridurre i nostri contatti sociali e nel caso in cui ci troviamo con altri ad avere o meno piacere del solito a starci, a interagire, a parlare, a chiacchierare. In alcuni casi a questo può aggiungersi anche l'essere un po' più irritabili, insofferenti, per cui stare sì con gli altri però con meno apertura, disponibilità solita e quindi avere in quel periodo un umore un po' più brutto, un po' più difficile, anche nel rapporto con gli altri. Quali sono i rimedi per questo disturbo? Nel disturbo affettivo stagionale, quindi se parliamo proprio di un disturbo, di una patologia, i rimedi sono, a seconda dei casi, o farmacologici e o con la cosiddetta light therapy, terapia della luce che è molto utile e anche con supporto di ordine psicologico. Diciamo che però in generale vuoi nelle depressioni, ma anche non nelle depressioni vere e proprie, nelle forme più comuni, più fisiologiche, ci sono alcuni aspetti che riguardano l'igiene di vita che sono utilissimi nel contrastare. Ad esempio, il risveglio al mattino non troppo tardi, direi anche un po' più precoce rispetto al solito, e fare attività fisica quando è possibile, alla luce, all'aria, fuori, è uno delle possibili rimedi per contrastare questo. Quindi andare in opposizione a quello che noi siamo tentati di fare, cioè di chiuderci in casa, magari riposare molto. No, al mattino mettere una sveglia anche un po' prima, esporci alla luce, che vuol dire anche solo affacciarsi alla finestra, andare a fare una passeggiata, e muoverci in attività, esponendosi alla luce e all'ossigenazione. Il disturbo affettivo stagionale potrebbe in qualche modo essere legato all'evoluzione della nostra specie? Allora, la risposta è difficile, è complessa, se ne discute da molto tempo. È possibile, ma non lo sappiamo in realtà. Perché è possibile? Perché negli animali esiste in molte specie una condizione per cui in inverno l'animale rallenta il proprio metabolismo, qualcuno va dietro nel letargo, che è la massima espressione di questo, cioè riduce la propria attività e questo ha un significato dal punto di vista fisiologico, cioè di risparmiare energie in un periodo dell'anno in cui c'è per esempio meno cibo. E quindi a volte è stato posto questo parallelismo, ma il nostro è un'evoluzione, quella delle depressioni stagionali, che avrebbe a che fare con quello che succede in alcune specie animali. È una ipotesi, è una teoria, però oggi noi non possiamo confermarla, perché non abbiamo ancora i dati certi e quindi è giusto che si facciano ancora ricerche e se ne dibatta ancora molto. Che ruolo ha la genetica nella predisposizione, nella tendenza a soffrire di questi disturbi? La genetica ha un ruolo, perché in tutte le forme di depressione, sottolineo tutte, la genetica ha un ruolo, cioè non nel senso che sono delle malattie ereditarie, delle tare ereditarie, però c'è una predisposizione anche di tipo familiare. In alcuni disturbi di più, per esempio nei disturbi bipolari, in altri di meno, ma c'è sempre un certo grado di predisposizione familiare. Anche nelle forme affettive stagionali c'è un certo grado di familiarità, cioè è facile anche tutti i giorni quando noi visitiamo persone che qualcuno mi dica, a me succede da anni che in inverno non sto tanto bene, sono triste, sono affaticato, faccio fatica a condurre le mie giornate regolarmente, cosa che poi in primavera in estate non più, e questa è una cosa che ricordo già di mio padre o di mia madre. Questo è facile sentirlo, ma succede in tanti altri aspetti della nostra vita, anche sanitaria, anche la pressione alta può essere stata familiare, anche a volte la tendenza al sovrappeso e così via. Qual è il cambiamento a livello di funzioni cognitive durante l'inverno? Cioè chi soffre di questo disturbo ha le funzioni cognitive peggiorate? Ecco qua, spero di riuscire ad essere chiaro nella risposta. Obiettivamente no, cioè oggettivamente se noi facciamo fare a questa persona dei test per provare con quanto è attento, come ricorda le cose eccetera, le sue funzioni non cambiano rispetto a quando sta bene in estate. Però soggettivamente la persona in realtà si sente invece non in forma intellettualmente, cioè spesso dicono tra le altre cose faccio fatica a concentrarmi, mi sembra di non ricordarmi bene le cose. È una sensazione però, per fortuna, solo soggettiva. In realtà dal punto di vista obiettivo, oggettivo, non è così.